terza tappa di questo viaggio alla scoperta delle 63 opere autografe di caravaggio che sono distribuite nel mondo tra russia europa e stati uniti oggi virtualmente andiamo a londra dove la national gallery c'è il ragazzo mosso d'auramaro le prime due tappe l'abbiamo visto e al bacchino malato e il ragazzo con canestra di frutta tutti e due la galleria borghese di roma perciò adesso saltiamo diciamo da roma a londra prima però di entrare nel merito della national gallery come luogo di conservazione un breve cenno va fatto sulla distribuzione geografica cioè in europa ci sono 18 città che hanno loro interno almeno un dipinto d'autografo di michelangelo maresi la città più a nord in assoluto e dublino dove c'è la cattura di cristo anche lì alla national gallery of ireland mentre questa di londra è appunto la national gallery of london perciò la londra è di fatto la seconda città più a nord la più a sud sarà malta fra l'altro la valletta a malta dunque nella per quello che riguarda le 25 città la città più a nord in europa è dublino in irlanda e la seconda è londra in inghilterra questo per avere un po presente come sono distribuiti questi dipinti direi di andare subito a fare una breve presentazione della national gala trafalgar square famosa anche perché ci hanno girato tanti film anche di fantascienza siamo vicini al parlamento di fatto perciò al tamigi adesso a quella che è la la famosa ruota e london ice e a trafalgar square c'è appunto la national gallery al cui interno c'è sì il ragazzo mostro dal ramaro ma ricordatevi che ci sono tre opere di caravaggio tre opere autografe di caravaggio e tutte queste tre opere hanno in comune un aspetto che ha un loro doppio c'è un loro doppio in giro proviamo a mettere in ordine le cose allora il ragazzo morso dal ramaro della national gallery alla sua tela sorella se vogliamo chiamarle così per il momento a firenze fondazione longhi il la cena ad emma o cena in emmaus della national gallery è quel di londra è quella del 1600 e 2 e alla tela sorella a milano alla pinacoteca di dove c'è la seconda cena di emmaus con logicamente parlando ed è del 1606 poi c'è tutta la questione delle due salome con la testa del battista una è questa di londra e l'altra è quella di parigi e scusate di madrid perciò salome ha una tela londra e una tela a madrid in spagna direi che ci possiamo fermare abbiate solo presente il fatto che la questione del doppio in caravaggio è una barraonda nel senso che longhi docet longhi riteneva che caravaggio non amava ripetersi no perciò in caravaggio il doppio non c'è il doppio non c'è qui infatti io parlo non a caso non tanto di doppio ma di stesso tema di stesso tema ma questo lo vedremo dopo ecco l'importante se andate alla national gallery a vedere caravaggio sapere che ci sono tre tele accomunate dal fatto di avere tele sorelle in giro per l'europa in questo caso della national gallery non direi molto altro non perché non ci sia da dire niente ci sono tanti dipinti di grande interesse all'interno ma andrei direttamente alla cronologia anche perché dovrò ripetere più o meno le stesse cose che ho detto negli altri video perciò sarà una cosa sintetica cronologia cronologia lo ripeto è l'anno di esecuzione del dipinto quando questo dipinto è stato eseguito ancora non è dato sapere l'anno è sempre intorno alla fine del primo lustro degli anni 90 perciò 1595 94 95 una data esatta ancora non c'è per i motivi che ho già detto negli altri video e che riassumiamo del primo mi periodo romano cioè dalla data di arrivo alla data dell'ingresso in casa del monte non è dato sapere la data di arrivo mentre date di sapere la data di ingresso perciò 97 entra in casa del monte del 97 che si è arrivato nel 92 nel 94 nel 96 è oggi una una data certa non possiamo ancora avercela ci sono tutte dei contributi l'ultimo quello del 2021 di terzaghi capelletti per capirci il famoso volume caravaggio a parigi lilia terzaghi ha un saggio nel quale da alcune specifiche però io siccome adesso dobbiamo entrare nei cenni storici dove dovrò dilungarmi un pochettino di più perché questo dipinto comunque racconta delle cose che sono interessanti chiudiamo qui la questione cronologia entriamo nei cenni storici cenni storici sul ragazzo mosso dal ramaro della national gallery e allora il primo dato che dobbiamo porre è che essendo venuto a roma per dipingere per vivere di pittura per fare il pittore lui dipinge per vendere i quadri per avere la committenza che va da lui la committenza l'abbiamo detto sono i ricchi perciò prelati nobili banchieri notari insomma gente che se lo poteva permettere che si rivolge a lui e non al capo bottega dove gli toccava lavorare perciò lorenzo carli antiveduto grammatica e giuseppe cesari nate cavaliere da pino lui voleva che il committente andasse direttamente da lui perciò non c'è probabilmente dietro questi dipinti una committenza che vada caravaggio un committente una persona che va di lì fammi il dipingimi il ragazzo mosso dal ramaro lui probabilmente sceglie il soggetto lo fa da solo anche perché vuole un attimo secondo me sfoderare la spada e voi mi dite ma ma che sfada sfodera con questo dipinto qualche che sfada ha sfoderato bello vediamo nella descrizione qui nei cenni storici allora mancanza di una di un committente perché ha proprio all'inizio però voglia di dipingere sul crinale che ho già detto no scivolare fuori dall'abisso dell'anonimato e non scivolare dentro l'abisso del santo uffizio il secondo dato è un troppo scaravaggesco classico dopo se argomento no è un troppo scaravaggesco classico è quello delle fonti la fonte in termini storici che cos'è beh è un documento scritto nel quale si parla di caravaggio delle sue opere ora gli storici dell'arte ci sono alcuni che sono specializzati gli archivisti eccetera no perciò sanno quando un documento è valido e sanno quando le informazioni riportate sono abbastanza specifiche da portare acqua al mulino dell'autografia di caravaggio in questo caso qualche fonda ci qualche fonte cita il ragazzo mosso da romaro e se voi andate nelle storie nei libri di storia dell'arte provate a farlo andate nelle schede dei dipinti vedete che spesso lo storico dell'arte dice proprio così citato dalle fonti citato dalle fonti i nomi sono un po sempre quelli io ve ne cito tre o quattro allora giorgio vasari fratto che ha scritto la storia dei pittori giulio mancini che è un medico giovanni baglione che ha fra l'altro a giovanni baglione ha querelato caravaggio ma ve lo dico dopo e poi c'era il diciamo il direttore della 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 galleria della collezione di vincenzo giustiniani che è un pittore nord europeo non mi azzardo dire il cognome perché lo sbaglierei ma ve lo metto qua in sovrappressione allora questi sono quattro cinque nomi che sono perlomeno i più noti persone che oltre a dipingere hanno anche avuto la pazienza di mettersi a scrivere quegli scritti li sono arrivati a noi allora citato dalle fonti citato da queste persone che a suo tempo hanno raccontato di caravaggio l'hanno raccontato per iscritto io direi che sui ceni storici possiamo fermarci qua ancora una volta non perché non ci sia da dire ma perché preferisco dedicarmi un po alla descrizione del dipinto dove c'è una una ricchezza abbastanza abbastanza importante per cui chiudiamo i ceni storici passiamo alla descrizione siamo arrivati la descrizione la descrizione della tela e vi do alcuni spunti in sequenza li consumiamo uno alla volta senza mischiali per non fare troppo troppo casotto quad uic dest me torquete la vedete in sovraimpressione una frase in latino che non la sapevo memoria è meno imparata per l'occasione vi voglio tranquillizzare da questo punto di vista quad uic dest me torquete ci arriviamo in qualche minuto allora vedete che in questa tela michelangelo merisi sceglie di usare un ramarro che è una luce tolaccia qualcuno direbbe no una luce tolaccia qualsiasi allora la prima cosa da dire è che nella pittura di del 5 600 spesso due specie diverse quale il ramarro e la salamandra venivano confuso una con quell'altra ok perciò non c'è una distinzione netta farà ma farà mago salamandra e la scelta noi non sapremo mai perché michelangelo merisi sceglie proprio il ramarro o la salamandra che dir si voglia perché come al solito non ci ha lasciato scritti guardate ragazzi che ho scelto il ramarro per questo motivo però alcune osservazioni le possiamo fare allora andiamo per esempio alla facciata della chiesa di san luigi dei francesi di fianco palazzo madama vi ricordo che palazzo madama oggi è sede del senato della repubblica italiana allora ea residenza di francesco del monte cardinal francesco del monte che ospita michelangelo merisi per tre anni gli fa arrivare la commissione della cappella contarelli ed è l'ambasciatore della famiglia medici a roma sulla facciata c'è questa losanga la vedete adesso questa rappresentazione di un ramarro cosa ci fa un ramarro sulla facciata della chiesa di san luigi francesi allora diciamo che questo animale così in apparenza insipido diciamo e può essere per alcuni anche magari spiacevole no a me che piace l'osservazione naturalistica per esempio non è proprio non è un animale spiacevole è un animale che anche bello da fotografare ma al di là di questo il la frase in latino che prima vi ho detto perciò quadruic d'est metto quet è la frase di federico gonzaga di federico gonzaga che sceglie questa frase adesso la vedete qua anzi per farvela vedere bene mi sposto mi sposto ecco vedete vedete che e dove la trovate questa frase che vedete adesso la trovate al palazzo te di mantua al palazzo te di mantua dove c'è questa scelta di federico gonzaga e perché mai questa frase anche fa e con il la coppia salamanda ramarro che si confondono e che vedete adesso e queste sono sempre immagini di ramarri presi da palazzo te di mantua perciò palazzo te di mantua trovate il la frase in latino e i ramarri e voi direte tutto questo cosa centra con caravaggio ma allora intanto può avere a che fare con caravaggio per un motivo storico perché federico secondo gonzaga vive prima di michelangelo merisi perciò può darsi è ragionevole pensare che michelangelo merisi poteva aver saputo che federico gonzaga aveva scelto questa frase come sua come suo slogan diciamo però l'importante se dal punto di vista storico può essere che michelangelo merisi ha preso il ramarro in memoria di federico gonzaga c'è un altro aspetto che dobbiamo capire cioè il significato il significato che ha questo questo ramarro ed è un significato molto psicoanalitico per questo mi piace farvelo vedere con calma e spiegarvelo con calma allora il la scelta del ramarro in federico gonzaga è una scelta paradossalmente di trasparenza cosa vuol dire vuol dire che lui si è rappresentato giocando sugli opposti perché perché lui ea un uomo passionale ea un uomo passionale perciò focoso anche sessualmente parlando e sceglie il ramarro per la sua freddezza per la sua freddezza e la frase in latino che cosa significa significa che la tua freddezza la tua freddezza è il mio tormento io sono una persona passionale nel vedere la passione che nutro per te nel vederti fredda distaccata mi tormenta perciò un uomo un gonzaga che decide di mettere proprio neo su bianco quello che è un suo aspetto psicologico caratteriale il suo essere tormentato dalla freddezza dell'amante ok allora questo aspetto che federico gonzaga con qualche coraggio con qualche coraggio sceglie di mettere in piazza di fatto un suo aspetto psicologico ci riporta a un'interpretazione che però vedremo alla fine e perché come vi accennavo nei video precedenti una caratteristica di fondo di tutta l'interpretazione di caravaggio e la mancanza perché perché il desiderio nasce da ciò che manca dall'esperienza della mancanza dalla frustrazione tant'è che federico lo dice esattamente no la tua freddezza è il mio tormento perché io ti voglio passionale invece la tua freddezza mi tormenta cosa voglia dire che caravaggio ha scelto il ramaro per rappresentare anche lui per fare il suo e concetto di federico gonzaga che anche lui è un passionale non lo sappiamo è impossibile dirlo perciò possiamo pensarlo ma dobbiamo essere consapevoli che non ci è dato sapere non ci è dato sapere però una cosa sì e poi anche questa la troviamo nell'interpretazione è che il fatto che sia possibile per te per motivi di date siccome federico gonzaga ha vissuto prima è può darsi che michelangelo marisa abbia saputo di questa frase di questo aspetto di federico gonzaga e l'abbia fatto suo se volete leggervi qualcosa sul genere leggete il volume di anna maria panzera dove affronta e racconta questo questo dettaglio è certo che se michelangelo merisi avesse davvero scelto il amaro rifacendo rifacendosi a federico gonzaga è qui allora saremo di fronte al fatto che questo ragazzo comincia a dipingere componendo puzzle cioè mette dentro vari significati allora questo aspetto della freddezza passione freddezza passione no chi è passionale viene torna e chi desidera fortemente l'amata e la trova fredda no nella polarità freddo fuoco no freddo fuoco c'è c'è una storia ecco e è dentro questa polarità e fra l'altro qui i lacaniani i miei amici lacaniani ci vanno a nozze perché lo specchio no lo specchio lo specchiarsi degli opposti allora è possibile che la scelta del ramaro non sia casuale che si rifaccia a federico gonzaga a questo tormentarsi no per la mancanza per il desiderio della mancanza e di questa polarità fuoco freddo freddo fuoco direi che qui sul ramaro la chiudiamo la chiudiamo e passiamo a un altro aspetto favoloso di questo dipinto che è leonardo da vinci leonardo da vinci leonardo da vinci il genio assoluto che non era un pittore non è applicato la sua mente ai problemi più importanti dell'anatomia umana l'architettura alle armi da guerra appunto anche la pittura quando e questo è un aneddoto interessanti quando lorenzo il magnifico per far pace col papa invia sandro botticelli la scura e la sua squadra a dipingere la cappella sistina negli affreschi laterali quelli bassi quelli bassi lì c'è sandro botticelli ci sono gli altri della ciurma fiorentina mandati da lorenzo il magnifico al pontefice per far pace perché è stato scomunicato lorenzo il magnifico in quella diciamo in quel gruppo di pittori che va a dipingere gli affreschi laterali bassi della cappella sistina non c'è leonardo leonardo da vinci perché non c'è perché lorenzo il magnifico sapeva benissimo che il nostro uomo leonardo non è un uomo da cantiere cioè non la pittura non era la sua la sua specie specifica infatti lo manderà a milano dove per ludovico il moro dipingerà ea milano sappiamo che dipinge l'ultima cena sbagliandola ancora oggi l'ultima cena ai immensi a immensi aspetti problematici dovuti alla tecnica esecutiva di leonardo problematici intendo tecnici nel senso di conservazione la conservazione è sempre stata molto problematica perché l'ha eseguita con una tecnica sbagliata adesso ve la taglio giù con l'accetta cosa che fa e leonardo da vinci con il ragazzo mosso dal romaro ufficialmente niente però in realtà qui anche anche prima anche nel ragazzo con canessa di frutto della borghese ma qui si vede che michelangelo merisi ha appreso la lezione di leonardo da vinci sullo sfumato lo sfumato sapete la grande rivoluzione che leonardo da vinci a sia eseguito in pratica ma anche teorizzato nel suo trattato sulla sulla pittura e la cosa importante è proprio è proprio questa che lo sfumato serve cosa serve a rendere possibile il racconto delle emozioni con la mimica del volto con la postura perciò è una tecnica che permette al pittore di giocare sulle emozioni ecco questo aspetto leonardo da vinci l'ha praticato nella pittura l'ha introdotto lui nella pittura e l'ha teorizzato anche perché se usi lo sfumato puoi raccontare le emozioni perciò sta dipingendo bene e qui vi voglio dare una una chicca anche se non la posso approfondire qua ma l'ho approfondita in alcune lezioni che ho fatto in giro ed è quello che vedete sullo sfondo è il libro di fabio caroli nella quale flavio caroli allievo di ernest gombrich che è che colui il cui libro ha il best seller di storia dell'arte diciamo ha raccontato ha raccontato la storia dell'arte gombrich a misura di tutti perciò sciacquando i suoi panni in arno è la metafora che ho messo nel video iniziale nel video 0 di questi di questi video nel video introduttivo no però per non perderci appunto flavio caroli è allievo di ernest gombrich e in uno dei suoi tanti libri caroli che cosa dice è propone leonardo da vinci come fondatore della psicologia fondatore della psicologia adesso non posso entrare nel merito troppo ma perché perché con la tecnica dello sfumato leonardo da vinci ha reso possibile ai pittori raccontare le emozioni e raccontare le emozioni nella pittura per secoli ha significato raccontare storie e mettere le basi per la psicologia scientifica che nasce fa fino ottocento e inizio novecento tema stimolante lo so soprattutto perché dal mio punto di vista bisognerebbe risalire molto prima cioè allo scorcio della della pittura vascolare greca a 500 anni prima di cristo perché là c'è il primo barlume di psicologia secondo me ma al di là di quello che ci porta troppo lontani ripiambiamo qui allora nel ragazzo mosso dal ramaro michelangelo merisi ci racconta ci dimostra di aver appreso la lezione di leonardo da vinci e di essere in grado di usare lo sfumato per raccontare le emozioni questo è il dato più saliente che credo che vada detto e adesso possiamo dopo aver spiegato queste cose del di come leonardo fa parte di questo dipinto in qualche maniera possiamo dire qualcosa su come questo dipinto ci racconta il caravaggio figlio invece del caravaggio padre e adesso vediamo di cosa il libro che vedete adesso è caravaggio e la modernità perché caravaggio da lunghi in poi ci è stato raccontato come il padre della modernità e sapete quando che si parla quando si parla in termini storici de del padre di un'epoca si sbaglia sempre perché un'epoca tanto è un concetto strato un'epoca ma soprattutto ogni epoca storica non solo il medioevo la modernità il rinascimento non ha un uomo come padre ha più eventi storici che lo definiscono sapete che per esempio la modernità ha come data di riferimento il 1492 che è la data della scoperta dell'america cioè del viaggio di colombo in america che colombo come sappiamo scopre l'america a sua insaputa benissimo in questo caso fra l'altro e avevo e avevo oggi noi facciamo un uso di questa parola a sua insaputa scherzoso ed ironico per una serie di vicende contemporanee legate al mondo politico ma al di là di questo allora noi stiamo dicendo che caravaggio viene definito padre della modernità ed è una definizione sbagliata perché ogni epoca storica non ha mai un solo padre è a una serie di eventi che da arrivano a definirla allora cosa stiamo dicendo di questo caravaggio padre e figlio allora siccome comunque caravaggio viene raccontato se non come il padre ma come uno dei padri più importanti del moderno della modernità come dire che anche noi non ci saremmo senza il moderno e la moda senza caravaggio che ha stimolato il moderno e la modernità bene se noi partiamo da questo presupposto allora quando ci viene data l'occasione per raccontare il caravaggio figlio dobbiamo pigliarla perché c'è stata nel raccontare caravaggio una ipertrofia cioè una un eccesso dei racconti del caravaggio padre padre del nostro tempo uno dei padri del nostro tempo del nostro moderno posto che tra l'altro oggi noi non siamo neanche più moderni probabilmente siamo post moderni ma al di là della definizione di quello che siamo restando appunto al merito dov'è che caravaggio è figlio in questo dipinto allora possiamo dire questo caravaggio arriva essere caravaggio dentro un'epoca dentro un'epoca perciò caravaggio è comunque un punto di arrivo se è vero che spesso si racconta caravaggio come punto di partenza lui è stato un punto di arrivo è stata una sintesi di un'epoca precedente michelangelo buonarroti e raffaello sanzio sono prima di lui d'accordo allora una delle dei racconti di caravaggio figlio dei debiti che caravaggio ha con chi è venuto prima di lui è in questo disegno che è di sofonismo anguissola lo trovate a capodimonte a napoli se volete andarlo a vedere e in questo dipinto in cui sofonismo immortala il fa un fanciullo che ha un ganchio che li morde un dito in questo caso il fratellino risposto per farvelo vedere meglio eccolo qua ecco questo disegno di sofonismo potrebbe aver influenzato michelangelo merisi nella stesura del ragazzo mosso di rama non ci sono prove storiche potrebbe essere perché il disegno può essere arrivato agli occhi di galileo galilei e noi sappiamo che michelangelo merisi incontra galileo galilei nelle stanze dell'attuale palazzo madama allora dimora di del monte non li incontra galileo perciò si parlano perciò non possiamo escludere che michelangelo merisi abbia visto il disegno il dipinto di sofonismo perché l'ho fatto prima e che sia il mediatore di questo incontro sia stato galileo galilei guardate bene non sto dicendo non sto dicendo che è il michelangelo merisi ha preso ha visto il dipinto e le faccio uno anch'io non sto dicendo quello sto dicendo che può essersi comunque ispirato in qualche maniera e comunque non abbiamo una documentazione che ci porti a dare fondamento diciamo è una possibilità che che è data ed è una delle occasioni per raccontare alcuni aspetti quando ci saranno occasioni di raccontare il michelangelo merisi o il caravaggio figlio di un'epoca beh io penso che sia sempre bene farlo proprio perché altrimenti prevale eccessivamente il racconto del caravaggio padre nostro padre della nostra della nostra epoca per cui mi piaceva darvi questo spunto su la possibilità che una parte del ragazzo mosso dal romano sia stata espirata dal disegno di sofonismo anguissola e qui questa del granchio la chiudiamo stesso tema non copia ecco quello che vi dicevo prima no si dice che michelangelo merisi non abbia mai replicato i suoi dipinti allora ho scelto per trovare un bilacciamento questa espressione lo stesso tema in questo caso un ragazzo mosso dal romano c'è in altre tele si allora io adesso ve la faccio vedere in maniera molto pratica proprio per aiutarvi a distinguerla ancora mi sposto per potervi far vedere meglio la cosa e qua vedete che questo è il dipinto di londra per cioè il ragazzo mosso dal romano di londra e adesso invece stiamo vedendo il ragazzo mosso dal romano versione fiorentina firenze roberto longhi fondazione roberto longhi sono praticamente identici se notate vedi rifaccio vedere a londra il fiorellino della caraffa è chiaro bianco pallido a firenze il fiorellino della caraffa è rosa rosso insomma non è un colore si può provare a distinguere le due tele in questa maniera possiamo però restando un attimo su questo argomento delle delle due tele raccontare una storia interessante per il più che altro perché sono stato fortunato a riuscirci allora mi piace raccontarvi questo episodio personale e cioè che alla chiusura del lockdown del 2020 del codano da coronavirus quando hanno riaperto un po le attività tra il maggio e giugno del 2020 io mi sono precipitato a roma con moglie e figli in treno abbiamo fatto un fine settimana in una roma completamente vuota e ci sono andato perché perché c'è una mostra che per me che è imperdibile se avete visto il video numero zero cioè il video introduttivo di questa serie avete allora sentito che la mia ambizione il mio sogno la frase appunto è quella prima di morire vorrei a cui prima di morire vorrei vedere dal vivo tutti i dipinti di caravaggio autografi però dal vivo non vederli ancora una volta sullo schermo di un computer di un tavolo di un telefono stampati sul libro io li voglio vedere dal vivo perché impagabile vederli dal vivo siccome la fondazione loghi non ha una struttura museale perciò non è che poi presentate di bussare alla porta di e pago il biglietto voglio entrare e giorno di apertura bisogna chiedere dei permessi appunto perché è una fondazione che ha delle altre attività ma non non ha una struttura museale di accoglienza allora quando ho saputo che la fondazione longhi esponeva ai musei capitolini la collezione di roberto longhi tra i quali ragazzo mosso da ramarro mi ci sono fiondato e sono riuscito a andarlo andarlo a vedere cosa che non contavo di di dovello archiviare come uno dei dipinti che non sarei mai riuscito a vedere e invece alla fine dei conti questa è stata un'occasione ghiotta verrà conto sia per il piacere che ho ne raccontarlo ma anche perché vi inviterei con l'occasione a leggere il saggio di mina gregori sul catalogo che c'è perché è un saggio in cui lei racconta bene secondo me quello che di cui lei è stata protagonista ai suoi tempi perché lei è stata attualmente è vivente a oltre 90 anni è la presidente onoraia della fondazione longhi e lei racconta come questi due galli perché erano davvero due galli che erano bernard benson che vedete adesso che abitava erano due dei rimpettai abitava sulla collina di fronte a roberto longhi noi queste due ville sui due colli fiorentini e bernard benson era da una parte e roberto longhi era da quell'altra i due si sono sempre scontrati aspramente e secondo la regola della vecchia scuola questa questo scontro avveniva sempre sul merito sul merito non erano mai sconti ideologici erano sempre sconti sul merito e nel saggio di mina gregori la gregori spiega bene come l'approccio di longhi è quello di arrivare ai capolavori dal basso del basso perciò lui aveva studiato la pittura la pittura quella sconosciuta quella di tanti autori bolognesi emiliani fiorentini che non erano arrivati ai vatici della pittura non erano raffaello il michelangelo il botticelli leonardo da vinci no e questo essere arrivati in alto partendo dal basso aveva permesso longhi poi di ottenere un autorevolezza nel nel suo mestiere che ha davvero unica e allora in questo saggio lei spiega questo approccio longhiano che trovo molto interessante e poi fa un breve cenno appunto questo sconto fa due giganti oggi la sede della quando ben sono poi è morto ha lasciato all'arvard university la villa dove lui abitava ha abitato per tanti tempi la va dai universiti la resa un centro di ricerca e nella villa invece dove abitava longhi c'è adesso c'è la fondazione longhi che porta avanti comunque i suoi progetti allora mi premeva farvi questo breve seno inventa e invitarvi a leggere il il saggio della della gregoi e comunque nel catalogo è anche spiegato il dipinto il ragazzo mosso dal ramaro e che viene proposto assolutamente come autografo di caravaggio è chiaro che non si chiede mai all'oste se il suo vino è buono e a scrivere che autografo il dipinto sono quelli della fondazione longhi però è anche vero che si portano contenuti poi non è come il caso non è che siano che siano facili da contestare i contenuti allora direi di chiudere qua il anche l'aspetto dello stesso tema no perciò due dipinti ragazze morso dal ramaro uno a londra e uno a firenze con questo catalogo che è del 2020 potete comprare che è più curioso e leggevi questi saggi che sono scritti bene pur essendo scritti da tecnici anche noi profani possiamo capirli direi che possiamo passare alle interpretazioni interpretazioni allora intanto un cappello introduttivo delle interpretazioni che è basato su questo ragionamento qua noi oggi decantiamo no raccontiamo caravaggio come non plus ultra come luber alles sopra di lui il vuoto gli altri sono tutti sotto di lui e non ce n'è uno meglio di lui e su questo tutti ci sbizzarriamo io compreso che sono un medico non si chiara e sono qua a contare storia dell'arte no e questa domanda perché caravaggio uber alles soprattutto non ha ovviamente una risposta cioè non è che uno può soffrire una considerazione che poi chiude tutti i discorsi però una cosa la possiamo dire che è importante cioè che se lui non avesse raggiunto un grado di destrezza pittorica di capacità tecnica nella pittura beh allora sarebbe rimasto un buon pittore e non avrebbe saputo sfondare la barriera del suono per capirci per dare un immagine un po plateale anche di quella che la teatralità di caravaggio perciò il dato su cui io vorrei che voi tutti vi concentraste per capire caravaggio è che michelangelo merisi senza la pittura sarebbe stato probabilmente uno dei tanti criminali della roma di fine cinquecento inizio a seicento e invece è stato con la sua pittura che è arrivato ad essere uno dei padri della modernità ma questa pittura è stato un punto di arrivo il michelangelo merisi che dipinge nei primi anni romani non è quello che supera l'esame di maturità della cappella contarelli per cui su questo io vorrei già fermare un punto qui michelangelo merisi ci racconta un altro gradino salì salito dal punto di vista della capacità pittorica e adesso proprio entriamo in questo però ecco senza senza la tecnica pittorica lui non sarebbe mai arrivato a quello a quello che poi è diventato a essere appunto uno dei padri della modernità perciò questo cappello introduttivo che la base e la capacità pittorica e dobbiamo tenerlo presente adesso proviamo proprio ragionare su questo aspetto qua proviamo a mettere insieme i pezzi abbiamo detto può aver trovato spunto dal sofonismo il ramaro aveva anche dietro questo tipo di rappresentazioni significati la grande tecnica di leonardo da vinci e sono solo tre ma ce ne sarebbero altri no che in questo dipinto ci possa essere questa costellazione di cose ci dice che lui è stato capace di comporre questo puzzle ok e questo è insomma non è mica robetta voi dite ma lo troviamo solo quando anche nei dipinti precedenti c'è a questo aspetto soprattutto nel ragazzo con canestro di frutta della borghese però quello che mi preme farlo vedere qua perché qui c'è veramente un insieme di elementi che ci dice che cosa è che sa comporre storie sa comporre storie mettendo insieme in maniera armonica in maniera armonica una serie di elementi e provo andare è proprio andare al dunque quando si tratterà di superare l'esame di maturità cioè raccontare la storia sacra e l'abbiamo già detto cappella contarelli luglio del seicento no questo esame di maturità sarà superato no per raccontare una storia sacra bisogna che il pittore riesca a rendere l'immagine in modo che chi la guarda capisce subito il prima il durante e il dopo per esempio in questo michelangelo merisi sceglie di rappresentare il durante del mosso il durante del mosso faccio un esempio pratico se io voglio rappresentare davide con la testa di gulia rappresento la scena mentre la taglia prima che mente carica l'arma quando l'ha già tagliata il taglio in corso il taglio prima il taglio dopo allora c'è sempre un prima durante dopo ed è il pittore che dice no in questo caso voglio rappresentare il durante del mosso perciò guardando il dipinto ci può venire in mente che dopo come ha fatto a liberarsene probabilmente ha fatto questo gesto che magari ci viene da fare anche noi o invece ne ha fatto uno più laterale l'ha preso l'ha staccato non lo sappiamo sappiamo che c'è questo ragazzo che è seduto a un tavolo dove c'è questa caraffa con dei fiori dentro l'animaletto era nascosto dentro le foglie spunta e lo becca e lo becca nel nel dito procurando di dolore perciò lui sceglie di raccontare questa smofia di dolore perché vuole dire così vuole alzare la mano e dire ci sono e ci è riuscito perfettamente nel senso che lui con questo dipinto ci dice che c'è che c'è questa è la grande novità del ragazzo mosso dal ramaro è un è un michelangelo merusi che fa un passo avanti enorme nella composizione nella tecnica pittorica complessiva perché dopo c'è tutta l'analisi io non l'ho fatta nella descrizione della caraffa per esempio del riflesso dell'acqua nella caraffa di tanti dettagli che ci sono che non ho voluto raccontare in maniera dilungarmi troppo per non stancare però questo dato preponderante ci dice che cosa ci dice che lui sta studiando per l'esame di maturità sta studiando questo è stato un compito in classe in preparazione dell'esame di maturità che è appunto la capacità di raccontare la storia sacca e siccome noi sappiamo che da lì a pochi anni un anno 23 lui entra in casa del monte probabilmente questi dipinti avevano proprio lo scopo di attirare l'attenzione dei vari del monte dei vari del monte cioè di coloro che avevano le disponibilità economiche per assumerlo per metterlo a pagamento in casa loro come come pittore ecco allora questo non è un dipinto banale perché ci racconta due cose uno che tecnicamente è migliorato come resa come perché sa rendere l'attimo sa rendere il dolore la mimica perciò è avanzato nella capacità pittorica e questo è un dato ed è in grado di usare la capacità pittorica per comporre un paso abbiamo detto noi non sappiamo e non potremo mai sapere a meno che non sporgano solo un documento meraviglioso nel quale qualcuno ci dice che guardate che michelangelo ha usato il ramarro perché ha rimasto impressionato della storia di federico gonzaga ecco questo documento non esiste per cui noi non lo sappiamo e non lo sapremo però tecnica pittorica per raccontare le emozioni appresa la la lezione di ronardo la vinci e capacità di comporre un paso mettendo diversi elementi dentro dentro la scena che va a rappresentare qui dentro però si perciò c'è una una crescita importante del pittore del pittore è qui torna è davvero difficile per me pensare per messi con la lista pensare che non ci sia niente di federico gonzaga cioè che michelangelo non si sia rifatto per niente 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 la storia di gonzaga perché è perché la questione del del freddo e del caldo della passione e della freddezza è quella questione lì è molto caravaggesca perché federico gonzaga esplicita la frustrazione della mancanza anzi il tormento il tormento della mancanza ecco è siccome all'inizio di questi video io avevo ho proposto no la mancanza come un tema fondamentale un topo scaravaggesco dal punto di vista psicoanalitico molto importante perché noi persone umane conosciamo il desiderio solo nella frustrazione della mancanza cioè sperimentando la frustrazione della mancanza impariamo a desiderare perciò che quel ramaro che dentro quel ramaro ci sia questa contrapposizione tra il freddo e il caldo se volete ma soprattutto questo urlo questo è un urlo quello l'urlo del ragazzo è in realtà l'urlo di michelangelo che ha sbranato dalla sua passione sbranato dalla sua passione c'è un po questa chiave di lettura in questo dipinto meravigliosamente banale perché uno dice lo guarda diciamo cosa c'è invece se vai a vederlo c'è un sacco di roba dentro no e che tutto questo fosse ben presente a un ragazzo di 25 anni di 23 24 25 anni quello che a quei tempi per cui io direi che su questo aspetto noi dobbiamo avere ben presente che nella smorfia di dolore c'è un virtuosismo tecnico che ci dice che c'è e che sta studiando per l'esame di maturità ma lì dentro c'è questo urlo che ci racconta di un ragazzo che è sbranato che è sbranato da quei due crinali che mi ostino a raccontarvi no lui viveva il dramma dell'anonimato dei suoi dipinti e doveva assolutamente uscire da quella lento scivolare dentro l'anonimato noi sappiamo che ce l'ha fatta che ce la fa però lui non sapeva non aveva nessuna sicurezza sul fatto che ce l'avrebbe fatta per cui è quanto mai importante questa questo racconto del ragazzo di morso dal ramaro perché qui il ragazzo morso dal ramaro è un urlo è un urlo di dolore di un ragazzo che ha sbranato torturato non tormentato tormentato dal bisogno di non affogare in quel in quel anonimato in cui è caduto gli storici dell'arte ci dicono che nei pressi di palazzo madama c'era questo rigattie che allo spata ed è probabile che michelangelo merisi portasse lì i dipinti per esporli e può darsi anche che francesco del monte li abbia visto i primi dipinti di michelangelo merisi e li abbia magari chiesto ma chi è che ha dipinto questo che voglio conoscerlo non sappiamo se dallo spata si è consumato il primo incontro o lì ferdinari francesco del monte ha visto i primi dipinti di caravaggio è una delle possibilità che ci vengono con che ci raccontano gli storici dell'arte però ecco il concludendo con l'interpretazione io direi che questo dipinto rappresenta davvero l'urlo di tormento di michelangelo merisi che non ne poteva più di quella vita precaria e voleva assolutamente diciamo entrare nella pista di decollo questa è la figurazione che vi propongo io i tre anni che michelangelo merisi passerà in casa del mondo sono la sua pista di decollo lì rulla l'aereo scalda i motori poi e molla il freno accelera e parte il decollo per la cappella contarelli ma sulla pista di decollo non ci deve ancora arrivare ecco lui qua sgomita con questo dipinto ci raccontano michelangelo merisi che sgomita che si fa spazio tra la folla che urla che sbraita che che tormentato da questo bisogno impellente che lui aveva no e qui abbiamo le due metafori il dipinge per vendere che quello di adesso e poi il dipinge per un altro motivo che però appunto come ho già detto non mi voglio anticipare qua perché lo vedremo nei nei dipinti nei dipinti successivi allora io per quello che riguarda l'interpretazione del ragazzo mosso da romano la chiuderei qua non perché non ci sia ancora niente da dire ma perché mi sembra che abbiamo già detto abbastanza cose e passiamo al sapete che ognuno di questi video finisce con una breve anticipazione e presentazione del video e perciò del dipinto successivo la quarta tappa di questo nostro viaggio alla scoperta dei dipinti autografi di caravaggio sarà a new york perché al metropolitan di new york è possibile ammirare i musici detto anche il concerto come sempre trovate il link diretto sia qui sullo schermo che qui di sotto dove c'è il link al dipinto precedente ea quello successivo di questo grazie grazie a tutti